Rilassiamo il tuo corpo, scendiamo verso la terra, parliamo il fascino dei pezzi e il legno a tavolo, attivare l'arco delle gambe, attivare l'asso centrale, passare il concetto verso la terra, attivare l'arco delle braccia, come tenere una piccola sfera sulle scelte, anche leggermente, ma rilassare bene le spalle giù verso la terra. Rilassare il petto e lasciare scendere il respiro a livello luminale, attiviamo la respirazione luminale. Regoliamo prima la mente, lasciare andare insieme, facciamo un passo indietro, seguiamo la nostra mente, ci distacchiamo dai pensieri, lasciamo seguire senza seguirli. teniamo la mente rivolta, la mente rivolta all'interno, ascoltare la sensazione che vengono il cuore. Grazie. a destra posto peso a destra punta dal piede sinistro rotazione dei carichi esterno interno cambio destra interno interno scioglie secara poi benedini assaggiando il ginocchio e poi rotazione sinistra e sangua destra, scendere, sedersi senza portare le genocchie in avanti, e ritorno. Cambio elzio. Cambio elzio. Sare, mica, legge, non chiede sempre. Poi piedi paralleli, mani e fianchi, rotazione del cacino da lì. la testa più ferma, agganciata al cielo e il bacino che scrive in un circo la scinconferenza la mente è all'interno della vita visualizzate una sfera di energia più buona nella fascia centrale del cuore il cambio di regno il cambio di scioglie passiamo alla colonna distendere bene la colonna sedendo nel centro di terra rilassi la goccia giù con la zona lombare e il filo che tira su verso il cielo allungare la colonna distendere non rilassare e scendere se non trovando le verte lentamente dalla zona circolare e l'abbiamo di più buona e l'abbiamo di più buona e scendere e la ginocchia e salire e sub sub stelle insieme su cielo e respiro e spiro l'aria di scegliere sciogliere col laterale volto verso destra punto del piede sinistra stendere sull'aria braccia destra e provettere verso sinistra e spiro e respiro e respiro sinistra e respiro respiro e respiro e respiro Sinistra. Cambio. Sciogliere. Salire al petto, concentrarsi sul petto, spalle rilassate, schiena dritta, aprire e chiudere gli spiriti. Grazie a tutti. Cambio, sciogliere. Cambio, sciogliere. Saliamo ancora le spalle. Cambio, sciogliere. 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 Grazie a tutti.